Allora, so che siete ragazzi e ragazzi di tutta Italia, vi diamo il benvenuto a Gifonia, a Salerno, in Campania e vi preghiamo di portare questo saluto alle nostre mamme, ai nostri papà. Una sola cosa, voi dovete essere amanti della pace, a me la pace, la pace, il rapporto di amicizia tra di voi, il rapporto di amicizia con le ragazze e i ragazzi di altri paesi del mondo. Dovete amare la pace, dovete amare l'ambiente e rispettarlo, dovete amare le persone più anziane e rispettarle e poi dovete essere ragazzi e ragazze, giovani e dovete vivere i vostri anni con l'alegria, con serenità, anche con senso di responsabilità. Questo è un evento che cura 54 anni, grazie a Claudio, grazie ai suoi collaboratori, e abbiamo fatto in modo che quest'anno non si interrompesse questa brutta storia e non si interromperà neanche per il futuro. Questo evento, il G-Force Festival, non parla solo di arte, di cinema, parla di solidarietà e di amicizia tra le bambine e i bambini e i ragazzi del mondo intero. Questo è il valore in più che ha il G-Force Festival. Nient'altro, voletevi queste giornate? Siamo sfruttati, un buon abbraccio a tutti i ragazzi del mondo.